La Corte dei Conti censura la Regione sulla spesa sanitaria. La sezione sarda della magistratura contabile stamattina ha presentato in adunanza pubblica i dati di un'indagine sui conti della sanità in Sardegna. I risultati non sono confortanti e chiamano in causa l'attività di controllo della Regione. La spesa sanitaria assorbe nell'isola il 40% del bilancio. Il deficit, che sulla base di un piano triennale di rientro doveva essere azzerato entro il 2010, continua ad aumentare. Lo scorso anno la stima è di 268,3 milioni di euro. La relazione è stata illustrata da Lucia D'Ambrosio alla presenza dell'assessore regionale della sanità, Simone De Francisci, e dei componenti della Commissione Sanità del Consiglio regionale. Per la Corte dei Conti la situazione della sanità in Sardegna è preoccupante a creare problemi, in particolare il mancato coordinamento tra il piano degli adempimenti impegni istilato dall'Aggiunta regionale e quanto viene fatto dai manager e dai dirigenti a tutti i livelli del sistema. Le aziende sanitarie locali, ricorda la relazione, hanno chiuso gli ultimi bilanci in perdita. Tale causa è il sistema di reclutamento del personale, che fa sempre più ricorso a personale esterno con consulenti interinali, e la spesa farmaceutica convenzionata, la cui riduzione è stata inferiore a quanto pianificato. Nonostante l'aumento della spesa non si sono migliorati i punti critici, come quelli relativi alla lunghezza delle liste d'attesa. La magistratura contabile è individuata nella carenza di controllo sulle asle e sulle aziende ospedaliere da parte dell'assessorato regionale della sanità l'origine di un aumento del deficit che sembra inarrestabile. L'assessore della sanità nel suo intervento ha ricordato le misure adottate dall'Aggiunta e dal Consiglio a partire dalla legge regionale del riordino della rete ospedaliera. A breve inoltre la regione emanerà un bando per il reclutamento entro gennaio di una trentina di dirigenti per colmare la carenza di personale addetto al controllo. La speranza è che questa misura non serva solo ad aumentare la spesa complessiva.